Dramma nella notte a Villa Estense, nella bassa padovana, ha perso la vita in un incidente. Giacomo Berto, 28 anni. Per il giovane era stata una serata di festa. Tornava a casa, infatti, dall'inaugurazione del suo nuovo locale, che aveva preso in gestione, a carceri. Le immagini della festa continuano a scorrere su internet. In questo video lo si vede mentre prepara la degustazione. Alle 4.30 di sabato mattina la sua vita si è fermata, a pochi metri da casa sua. Il ventotenne, infatti, rientrando dall'inaugurazione del suo locale, è finito fuoristrada, mentre era alla guida della sua alfa mito, schiantandosi contro un palo della luce. Subito il soccorso è stato trasportato dagli operatori del suo 118 verso l'ospedale di Monselice, ma non ce l'ha fatta. Il giovane, infatti, è morto lungo il percorso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Giacomo aveva compiuto 28 anni pochi giorni fa, volto noto della movida delle stense, conosciuto ed apprezzato. È mancato proprio la notte dell'inaugurazione di quello che per lui era un sogno, un traguardo raggiunto.